CFP ad Albate, uno dei settori davvero più interessanti e che continua ad avere grandi riscontri è quello dell'autoriparazione, meccanico, tanto per intenderci, meccanico. Allora, con noi c'è il docente che è Fabrizio Giorgetta, buongiorno, prof, alle spalle ci sono i tuoi ragazzi che stanno lavorando, però mi pare di capire, fammi capire, prof, cioè si esercitano direttamente qua, proprio questa è l'officina, diciamola, chiamiamola così, giusto? Questa è l'officina dove insegniamo ai nostri ragazzi a imparare tutte le macchine, in questo caso ci sono motori a scoppio, quindi i motori che montiamo nuovamente sulle nostre macchine di varie tipologie, di varie numeri di cilindri, i ragazzi imparano a smontare. Per loro è proprio una esercitazione praticissima, ma fin dal primo anno? Fino al primo anno, fino al primo anno fanno un giorno, un giorno e mezzo in un'officina a smontare e rimontare, la particolarità di questa officina è che quando un ragazzo comincia a smontare il motore, gli viene dedicato un banco, quindi una postazione completa, un carrello beta completo, affinché il ragazzo possa smontare e rimontare completamente il suo motore, se il ragazzo ha bisogno di più tempo degli altri può rimanere quanto vuole, se è più veloce gli si dà un motore diverso da questo e andrà un po' di più. Poi questo è invece il lavoro in gruppo, stanno facendo un lavoro in gruppo loro adesso? Questo è il lavoro in gruppo che stiamo facendo, che stiamo smontando delle batterie alta tensione delle auto ibride, perché mai anche le auto ibride sono entrate forsemente. Certo, certo. Ah, quindi queste sono batterie di auto ibride? Queste qua che stanno smontando i ragazzi con tutti gli strumenti necessari, quindi per poter smontare. Questa è una batteria alta voltaggio di auto ibride, la stiamo smontando e sezionando per poi andare a misurare componente per componente, ripulirla, revisionarla e rimontarla. Stessa cosa? Questa cosa che i ragazzi stanno smontando, perché abbiamo a disposizione due batterie, quindi a poter smontare e rimontare. In questo caso il nostro aluno sta togliendo i guanti di protezione per passare all'altro aluno, il quale il proverà e li utilizzerà. Infine andremo a vedere poi anche una parte di motore elettrico, che è quello che vediamo qua sotto. Qua sotto abbiamo tutta una parte di motore elettrico, questo a sinistra è un motore elettrico dell'auto completamente elettrico, quello a destra invece è un cambio elettrico di una macchina completamente elettrica. Quindi mentre di là la lavorazione è molto più difficile e complicata, questa è una parte che diventa più semplice. Ecco, questa è una cosa molto importante, c'è un'evoluzione delle auto, cambiano, sono ibride, sono elettriche molte di loro e quindi giustamente devi formare dei nuovi autoriparatori che sappiano mettere mano ovunque. Ovunque, ovunque, perché stanno prepotentemente nel mercato e quindi è chiaro che si cambia completamente la tipologia. Però mi dicevano che è un settore questo che tira forte. Ambitissimo, è un settore particolarmente ambito, un settore in cui noi prepariamo i ragazzi con tutto, veramente con tanto impegno. I ragazzi hanno una grande volontà di rimanere qua, posso vedere questi ragazzi a nostri spalle. Abbiamo oltretutto per i ragazzi, non usiamo dire autodianesi nuove, perché ormai il mondo del mercato parte dal vecchio ma va verso il nuovo. Quindi ragazzi, è una cosa che ci confermi, fare il meccanico è ancora una cosa che piace, assolutamente sì. Quindi, quanti anni occorrono per andare in officina? Allora, per andare in officina, per essere creato come operaio, tre anni per fare l'operaio, quello che fa tutti i lavori officinali. La sostituzione, frizione, guarnizione, freni, che sia. Un quarto anno è quello del tecnico in cui facciamo fare questi costi, addirittura, allora il secondo corso, per poter fare una utenzione che è obbligatoria su un'auto uribile ed elettrica e usare tutti gli strumenti di autodiagnosi che abbiamo e utilizziamo. Su queste macchine un po' più vecchie. Ma ecco, magari possiamo vederle? Magari se possiamo... Ah, non ce l'hai qua? Ok, no, fa niente, aspetta, fa niente. Ecco allora, sì, ce l'hai fatta, ce l'hai fatto anche vedere, va bene, perfetto prof. Questo è che sono questi... Questi sono strumenti di autodiagnosi che sono quelli che servono, quindi il computer per intenderci, che va all'interno, che va collegato direttamente alla vettura per andare a fare il diagnosi. Ne abbiamo le tipologie, nuovi, e noi siamo per fare tutte le varie verifiche sulle macchie, quindi creiamo un danno, o comunque simuliamo quello che può essere un difetto, il ragazzo collega questo, va a vedere qual è il difetto, e poi attraverso il computer va a fare un preventivo in tempo reale di quanto costano i ricambi. Credo che quello che abbiamo mostrato, prof, sia veramente una cosa molto... prego, dimmi, vuoli farmi vedere altro? Faccio tutta la parte della candistica, perché quello è tutta la parte del motore e questa è tutta la parte di trasmissione, sempre con lo stesso principio, i ragazzi impareranno a fare tutte le varie tipologie e ognuno a disposizione di una propria prestazione. Avete sentito? Allora, tre anni per essere comunque pronti per andare in un'officina, quattro se si vuole poi avere un ulteriore step. Devo dire che quindi hai aperto questa finestra e non è vero che il mestiere tradizionale, che poi è uno classico, funziona ancora. Tantissimo, tantissimo. Se volete, se il vostro figlio ha questa predilezione, però affrettatevi perché le iscrizioni sono veramente agli sguardo. È giusto? È vero, manca poco. Manca poco. Vi aspettiamo. Grazie, buon lavoro, prof, grazie davvero.